eccoci alla grande sfida Napoli-Milan croceria questa partita qua tirà molte cose con le grandi appena si è alzato il livello il Napoli è venuto meno poi cos'altro si è detto se il Napoli non dimostra anche in quest'altra partita di essere superiore al Milan allora ce lo possiamo scordare e tante altre cose ovviamente sono state dette o sentite comunque è una partita importante se perdiamo non è una novità perché negli ultimi anni non ci è andato sempre bene soprattutto l'anno scorso c'è stato un pareggio due scompitte di cui pareggio l'anno scorso abbiamo vinto a Milano poi abbiamo perso in casa poi abbiamo perso da loro in Champions League e poi abbiamo pareggiato in casa quindi diciamo negli ultimi tempi non ci sta andando tanto bene domani possiamo sfatare questo trend diciamo questo trend negativo e noi arriviamo un'altra volta senza Osimena quindi anche se non si sa se sarà della partita o meno però si spera perché Caius non ha convinto molto a Berlino però chi lo sa forse un po' troppe responsabilità due partite uno dietro l'altro no? Verona e poi dopo a Berlino ma chi lo sa comunque magari che devo dire magari il ragazzo diciamo ha subito il fascino della Champions League ma chi lo sa comunque a parte questa andiamo ad ascoltare subito Pioli poi dopo ne traiamo le conclusioni vediamo vediamo cosa ha da dire il mister vai mister conferenza stampa di Stefano Pioli la parola a Mauro Suma Milan TV buongiorno grazie Laura buongiorno mister alla vigilia di Napoli Milan mister le volevo chiedere questo il calcio per sua natura non è mai definitivo il calcio è dei momenti appartiene ai momenti piccoli brevi o lunghi che siano e naturalmente i momenti si fa presto a cambiarli dal bene verso il male e viceversa la squadra che aveva attorno ieri durante la premiazione per le sue 200 panchine guardandola negli occhi ha spesso avuto in questi anni la forza lo spirito per cambiarlo questo momento perché i momenti non vanno tanto commentati bisogna cambiarli ha la voglia sicuramente di cambiarlo questo senza altro sappiamo che arriviamo per la prima volta in questa stagione da due sconfitte consecutive due sconti diretti domani abbiamo un altro sconto diretto quindi sicuramente abbiamo la voglia di poter cambiare questa situazione e poi dovremo dimostrare sul campo di avere le qualità per essere una squadra continua costante qualitativa attenta determinata per 95 minuti perché quando giochi partite di quel livello lì contro avversario di quel livello lì deve essere sul pezzo per 95 minuti e noi è quello che vogliamo fare Sky Napoli per il mio di Stefano Pioli è stato sempre un manifesto negli ultimi anni per una ragione o per un'altra soprattutto due anni fa ma anche l'anno scorso è la chance domani? Io penso che comunque la prossima partita è sempre la tua chance in questo ma io penso anche nella vita quotidiana ma soprattutto nello sport non puoi più pensare a quello che hai fatto fino a ieri quello che hai fatto fino a ieri è nella storia in positivo in negativo non puoi pensare a cosa faremo a maggio cosa faremo l'anno prossimo perché poi devi vivere presente e la prossima partita che affronti è la più importante questa settimana qua sapevamo di queste partite non sono andate come volevamo non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo abbiamo fatto degli errori che in passato ne abbiamo fatto meno e ne abbiamo pagato caro prezzo certo che domani è l'occasione per dimostrare che invece possiamo essere una squadra migliore possiamo fare prestazioni migliori di quelle che abbiamo fatto e possiamo ottenere anche un risultato positivo facendo un semi passo indietro non a Parigi ma al post Parigi agli ultimi giorni a Milanello che giorni sono stati dal punto di vista non tattico né di campo ma dell'umore della squadra di Pioli giorni di lavoro giorni di confronti giorni di dialogo con i giocatori come faccio sempre per cercare di per cercare di alzare il livello del gioco della squadra per cercare di alzare il livello di tante situazioni di quelle situazioni che in questo momento ci hanno visto nelle ultime due partite un pochettino in difficoltà quindi di lavoro di concentrazione di partecipazione di condivisione con i miei giocatori di un obiettivo da raggiungere Federica Zille Buon pomeriggio mister vado proprio su quelle situazioni di difficoltà si è parlato tantissimo negli ultimi giorni dopo le ultime due partite soprattutto di quegli uno contro uno concessi dell'atteggiamento della difesa nell'immediato la soluzione qual è? Coprirsi un po' di più quindi cambiare l'atteggiamento oppure ci sono stati degli errori individuali dei movimenti che non sono arrivati e quindi è l'attenzione su cui c'è da lavorare abbiamo un nostro modo di giocare che assolutamente dobbiamo portare in avanti e poi è chiaro che ci sono delle situazioni dove dobbiamo essere più attenti dobbiamo essere più riflessivi dobbiamo cercare di aiutare un po' più il compagno ma sicuramente non cambieremo il nostro stile di gioco Rai volevi farne un'altra Fede? Se posso volevo anche chiederle visto che ieri le parole di Furlani sono state molto interessanti nel finale ha detto speriamo di festeggiare a maggio che arrivi proprio dopo due sconfitte dopo un 3-0 contro il Paris Saint-Germain questa dichiarazione come l'ha presa insomma questo obiettivo dichiarato di provare a vincere il titolo? solo in modo positivo perché lavoriamo con una proprietà ambiziosa una proprietà che ha strutturato la società in modo per avere tante soluzioni in modo per pensare in grande ha fatto sì che la squadra sia competitiva quindi è chiaro che il nostro obiettivo è vincere il campionato questo è sicuro poi è altrettanto chiaro che ci sarà solamente una squadra che non siamo solamente noi che vogliono vincere ma il nostro obiettivo deve essere questo Prego Rocchi Ciao Stefano Ciao Si è detto e scritto di un Milan che è tornato da Parigi diciamo tra virgolette con un po' un clima nervi tesi vero o falso? Nervi tesi sì ed è giusto che sia così perché diamo il massimo per ottenere il meglio e non ci siamo riusciti ma nervi tesi giusti giusti perché ci mancherebbe altro che torniamo da una sconfitta così in Champions e siamo sereni siamo felici siamo sorridenti e vabbè pensiamo alla prossima ma ne abbiamo parlato ci siamo confrontati nessun problema anzi tutto chiarito anzi meglio di prima ancora a dire la verità mi sono state riportate delle cose in sala stampa non veritiera e questo ha creato un po' di confusione ma tutto chiarito tutto a posto e quindi si va avanti ciao Stefano mi riallaccio qui intanto perché è un'opportunità nel senso ti ha spiegato poi Davide quella frase chi non ci crede può stare a casa proprio tu quello che ha riportato male perché non parlava dei suoi compagni o di noi giocatori parlava dell'ambiente noi ci crediamo lavoriamo in un certo modo a Milano lo diamo tutti e ci crederemo fino alla fine lui non ha messo un soggetto è andato così ma non c'è nessun problema nel ricordare la domanda la risposta di Davide mancava la seconda frase non c'è nessun problema io parlo con i giocatori quindi ci siamo cariti nessun problema certo ok posso chiedere un'altra cosa se invece il problema del gol come ci stai lavorando se ci sono delle risorse alternative per esempio come sta Nojovic come sta Okafor certo che ci stiamo lavorando perché è la situazione che nell'ultima partita ci sta penalizzando di più perché non stiamo mancando nell'avvicinarsi vicino all'area avversaria nel poter creare situazioni pericolose ci sta mancando l'ultimo passaggio ci sta mancando la conclusione ci sta mancando forse riempire un po' più l'area con qualche giocatore in più quindi è chiaro che abbiamo lavorato che speriamo domani di fare sicuramente meglio Iovic e Okafor sono convocati quindi sono disprezzi prego Gazzetta.it perfetto Petriella ciao mister io volevo chiederti a proposito di Garzia visto che lo ritrovi dopo diversi anni in una delle ultime volte in un derby di Roma non era finita molto bene tra di voi c'è stata qualche polemica ho detto che non dobbiamo pensare a ieri te vai indietro di però volevo sapere cosa pensi di lui allenatore adesso al Napoli e poi ho una curiosità su Kbaraschelia visto che penso che il Milan possa essere una delle squadre che può dire come si ferma Kbaraschelia perché tre partite su quattro non è stato decisivo l'anno scorso e mi chiedo se hai pensato a qualcosa di speciale per fermarlo anche stavolta grazie Garzia che è sicuramente un ottimo allenatore che allena un'ottima squadra ha avuto come è normale che sia un allenatore nuovo in un ambiente nuovo con giocatori nuovi e qualche difficoltà all'inizio ma adesso ha rimesso la strada sulla direzione giusta è una squadra che sta giocando bene che conclude che conclude spesso in porta che crea tanta occasione è vero che gli manca Usimene ma è altrettanto vero che anche nella passata stagione senza Usimene hanno ottenuto grandissimi risultati e avevano perso solamente contro di noi e quindi è un allenatore sicuramente di livello per quanto riguarda Kvara è un giocatore da tenere in grande in considerazione è un giocatore che nell'uno contro uno può farti veramente male quindi cercheremo di essere molto attenti in quella situazione prego Delia Ministro buongiorno intanto complimenti per le duecento presenze sulla panchina rossonera tornando al problema del gol anche il centrocampo segna poco un solo gol quello di Lofutus Cic contro il Cagliari secondo lei è un problema che si riempie male l'aria e poi le chiedo se c'è un centrocampista più di tutti gli altri che c'ha in canna qualche gol in più rispetto al resto della rosa grazie beh che dobbiamo riempire di più l'aria questo sì sicuramente perché comunque stiamo andando spesso volte in uno contro uno sugli esterni per come sviluppiamo e stiamo crossando anche di più di quello che facevamo nella passata stagione quindi riempire l'aria sicuramente sì non solo con le mezzane ma anche con l'attaccante esterno opposto io credo che Tigiani abbia le caratteristiche per fare meglio sia l'ultimo passaggio perché in tre vice partita credo che abbia fatto solo due assist ha avuto tante situazioni dove poteva fare meglio questo ultimo assist sia nelle conclusioni perché è un giocatore che ha sempre fatto gol poi è chiaro che se io ho riguardo bene la partita con il PSG nel primo tempo abbiamo recuperato molti più palloni di loro nella metà campo avversaria e lì potevamo veramente fargli male ma c'è mancato l'ultimo passaggio c'è mancato l'ultimo movimento c'è mancato il tiro in porta quindi quelle sono tutte situazioni che dobbiamo assolutamente provare a forzare perché non possiamo sperare di cambiare i nostri risultati così dobbiamo cambiare qualcosa dobbiamo avere un atteggiamento diverso dobbiamo avere una qualità superiore per poter tornare a essere così pericolosi ed efficaci anche sotto retta discogliosi sì salve 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 mister l'abbiamo nominato Ruben Loftus-Cic appena è arrivato lui l'ha subito elogiato la fisicità sia in attacco sia in difesa in entrambe le fasi quanto sta mancando e come sta il ragazzo lui ha un trascorso importante di infortuni quindi a livello psicologico e fisico come sta affrontando questo periodo grazie Loftus non è solamente un giocatore importante per la nostra fase offensiva dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista qualità ma abbiamo altre caratteristiche possiamo essere allo stesso modo anche senza Loftus pericolosi ed efficaci sotto porto è guarito dalla lesione che aveva avuto al muscolo particolare piccolino pettino adesso soffre di un'infiammazione addominale pubica sta meglio sta meglio ogni giorno sembra stare meglio adesso gli manca l'ultimo step per portare nella squadra sicuramente domani non sarà con noi ci sono buone possibilità che ci sia per la prossima partita dal punto di vista psicologico è fatto bene a sottenarlo perché purtroppo è un ragazzo che ha avuto in passato tanti infortuni e quindi chiaramente va un po' guidato va un po' sostenuto perché era partito benissimo aveva un grande vigor una gran forza una grande convinzione una grande felicità di stare con noi dentro la partita e adesso chiaramente va un pochettino sostenuto prego Franco eccomi buon pomeriggio volevo chiederti questo siccome vedo che insomma dalle dichiarazioni che hai fatto prima e io personalmente condivido tiri dritto per la tua strada nel senso che questa è una squadra costruita per giocare in un certo modo in maniera un po' sfacciata diciamo aggressiva ecco però dal punto di vista difensivo perché diciamoci la verità ci sono due analogie tra il derby e la Juventus oltre che con il Paris in cui c'è Tomori che si fa risucchiare a metà campo lascia scoperto da quella parte c'è De Humphries che mette la palla per per Stessa cosa con la Juventus allora da quel punto di vista difensivo secondo me ci sono delle viti che devi stringere e degli interventi diciamo tra virgolette da tecnici da fare in allenamento in questi giorni e nei prossimi soprattutto sì sì no ma abbiamo fatto anche in questi giorni ci mancherebbe essere aggressivi non vuol dire essere scoperti non vuol dire essere aperti non vuol dire accettare in queste situazioni uno contro uno noi dobbiamo leggere molto meglio quando la palla è libera piuttosto che quando la palla è coperta quando la palla è coperta possiamo essere aggressivi possiamo anche affrontare gli uno contro uno quando la palla è scoperta dobbiamo essere un po' più riflessivi e un po' meno aggressivi sono tutte cose che che vanno perfezionate che vanno migliorate ma non deve cambiare l'atteggiamento mentale della squadra poi nello specifico delle situazioni difensive sicuramente sì possiamo possiamo fare meglio in alcune in alcune situazioni soprattutto a quelle che ti sei riferito calciomercato e poi tutto sport facciamo così la sua squadra ha tanti giocatori importanti tutti siano importanti forse ce n'è qualcuno un po' di più vicecapitano anche qualcuno che ha costruito in questi cinque anni prendo in prestito una statistica del collega Pastore che ho letto nei giorni scorsi in cui secondo il quale Teo Hernandez a differenza degli altri anni ha procurato meno ammunizioni negli avversari molto di meno magari un dato non è così importante non così incisivo le chiedo secondo i dati che invece voi analizzate tutti i giorni è così in calo rispetto alla sua migliore versione o in realtà è semplicemente dato dalla partita dalla diciamo dall'attualità grazie ma secondo me stiamo sviluppando una fase offensiva soprattutto sulla sinistra un pochettino diversa e quindi lui ci sta che qualche volta sia un po' più sia un po' meno diciamo prorompente sulla fascia sia un po' più diciamo d'appoggio e poi andare successivamente io credo che Teo sia un giocatore fortissimo lui lo sa credo che dobbiamo alzare il livello tutti rispetto a due ultime partite anche se ho la netta sensazione se parliamo solamente di Champions un anno fa abbiamo giocato con il Cessi nello stesso periodo lì non c'era non c'era stata una categoria di differenza ce ne erano molte di più io credo che invece mercoledì noi siamo vicini a essere di altissimo livello ma ancora per quell'altissimo livello lì devi fare ancora dei passetti in avanti e tutti insieme dobbiamo cercare di sforzarci ancora di più per raggiungere quel livello lì e Teo uno di quei giocatori che ci può aiutare ad arrivare a quel livello Federico Masini Tutto Sport Buongiorno io volevo tornare sul Napoli e chiederle se ci può spiegare in maniera molto sintetica chiaramente differenze tra il Napoli di Spalletti e il Napoli di Garzia e se per voi cosa cambia giocare eventualmente contro il Raspadori centravanti o Simeone grazie per la fase difensiva non credo che abbiano cambiato più di tanto perché anche poi alla fine Spalletti difendeva con un 4-4-2 con Zelischi che affiancava la punta centrale e più o meno Garzia mette in pratica le stesse situazioni lo stesso atteggiamento in fase difensiva con la palla prediligono chiaramente il fraseggio prediligono come andare il gioco è difficile vedere delle differenze in questo momento notevele rispetto al Napoli dell'anno scorso è una squadra che può palleggiare molto bene ma allo stesso tempo può anche affondare molto velocemente che ha degli esterni che sanno rientrare che sanno fare uno contro uno forse Raspadori può raccordare un po' di più il gioco può giocare anche un po' più tra le linee Simeone sicuramente lo conosco bene l'ho allenato sicuramente molto bravo ad attaccare la profondità attaccare l'area quindi un pochettino le caratteristiche possono essere diverse andiamo da Conte e poi da Pelle Gatti ciao Stefano volevo chiederti se hai creato quasi un dualismo tra Krunic e Adli è possibile che nelle rotazioni possono giocare assieme tatticamente sono due modi di intendere la partita che si vuole affrontare quando c'è uno o c'è l'altro credo che sia anche giusto che si sia creato un dualismo nel senso che stanno occupando la stessa posizione e in questo momento non li vedo giocare insieme ma li vedo uno cominciare e uno casomai subentrare o comunque uno sta in panchina perché nelle mezzali comunque ce l'abbiamo anche se ci manca l'Oftus e credo che tutte e due sanno giocare bene adesso in questo ruolo qua in questa posizione hanno anche forse caratteristiche diverse e quindi vedrò di partita in partita ma sono contento delle loro prestazioni sono contento di come stanno interpretando nello specifico il ruolo Carlo buon pomeriggio buongiorno la prima domanda potrebbe pensare di ritornare nella comfort zone che l'ha vista poi vincere il campionato eccetera 4-2-3-1 oppure sarebbe un po' non è una squadra adatta questa magari rispetto alle altre questa è la prima domanda in fase difensiva siamo spessi 4-2-3-1 e lo saremo anche domani quando gli avversari hanno un vertice basso andiamo a lavorare con il nostro mezzalo sul loro vertice basso ma poi in possesso palla in questo momento prendiamo posizioni diverse ma poi saranno le partite saranno i risultati saranno soprattutto le prestazioni a dirmi dove insistere dove magari limare qualcosa io sono sempre disponibile molto attento a capire dove possiamo migliorare dove si può alzare il livello dove se è una posizione se è un giocatore se è una situazione tattica da migliorare per poter alzare il livello della squadra quindi saremo pronti a qualsiasi evenienza quando ci accorgeremo e mi accorgerò che c'è qualcosa di specifico che ci può aiutare a far rendere di più la squadra invece proprio sul piano personale se noi fossimo ad Atene e ci fossero dei cittadini ateniesi leggo il tema e anche questo secondo qualcuno Pioli pecca di hubris di tracotanza è un presuntuoso io rispondo sì ma è lo stesso che con la tracotanza e la presunzione batte la Roma batte la Lazio e gioca contro il Borussia Dortmund in battuta imbattuto in campionato ecco il tema perché è presunzione a volte si può diciamo confondere con coraggio mi interessa questo tema perché è un tema in questi giorni ma io io sono convinto di quello che faccio cerco di essere convinto di quello che faccio mi preparo studio vedo mi aggiorno conosco i miei giocatori e poi cerco nelle mie convinzioni di dare convinzione ai giocatori poi dopo l'importante è che sia convinto io quando sono convinto io sono credibile nei confronti dei giocatori diventano convinti anche i miei giocatori poi dopo se passo per presuntuoso non lo so non credo di esserlo ma poi non è che posso convincere tutti non è neanche il mio obiettivo io devo convincere i miei giocatori che quello che propongo è la cosa giusta per loro e cerco di farlo tutti i giorni cerco di farlo ogni singola partita per cercare di mettere in campo la squadra la migliore possibile con le idee più chiare possibile per vincere la prossima partita e adesso diamo la parola a Mauro Suma ma soprattutto agli amici di Twitch e di Youtube grazie Laura mister partiamo dalla nostra membership di Youtube Gianluca le chiede questo in Champions facciamo un po' fatica a fare gol mentre in campionato prima o poi il gol arriva sempre quasi può essere quasi sempre in 11 contro l'11 arriva sempre qual è la differenza insomma è evidente che in Champions abbiamo avuto questo problema è altrettanto evidente che non ci sono mancate le situazioni che non ci sono mancate le occasioni per quello che io dico che non è tutto da rifare come può sembrare ma che è da ci sono da migliorare tante piccole situazioni che poi però diventano le situazioni a quel livello lì parliamo di una competizione alta parliamo di un girone rispetto all'anno scorso non so quante volte più difficile e quindi sono quelle piccole cose che dobbiamo far bene per raggiungere un livello ancora più alto per poter cercare di vincere la prossima partita in casa perché la prossima partita in casa sarà uno spartiacco prima avevamo detto non ancora determinante adesso ci siamo molto vicini pensiamo a quella perché poi dopo potrebbero aprirci tanti tanti discorsi nelle due ultime partite ma quindi sappiamo che dobbiamo migliorare questo ci mancherebbe e vedo una squadra volenterosa e consapevole dove poter migliorare per raggiungere certi per raggiungere un livello ancora superiore di gioco sempre da youtube mister Marco le chiede le partite contro il Napoli vinte negli ultimi anni sia in campionato che in Champions le abbiamo ben giocate grazie anche ad un certo modo di essere superiori a centrocampo si può rifare anche domani ci rifacciamo un po' domanda prima del 4-2-3-1 abbiamo quasi sempre giocato contro il Napoli con tre centrocampisti e tre attaccanti anche domani comunque giocheremo contro il Napoli con tre centrocampisti e tre attaccanti se vinceremo ci diranno che abbiamo fatto le cose fatte bene se perderemo ci diranno che abbiamo fatto tutto sbagliato magari riproponendo le stesse cose che poi l'anno scorso ci avevano fatto vincere ma però la partita di domani è un'altra partita è una nuova partita e dobbiamo affrontarla bene dall'inizio approcciarla bene come abbiamo approcciato bene nella partita di Parigi ma poi portarla avanti con convinzione con fiducia con forza con qualità per tutta la gara chiudo mister con una nostra followers di Twitch Cristina leggo testualmente più che una domanda un augurio che possa ricevere il premio per altrettante partite fra 3-4 anni vorrebbe dire tante cose belle vorrebbe dire che a maggio festeggiamo grazie a tutti e buon lavoro e se è conclusa così la conferenza stampa di mister Pioli Stefano Pioli e che dire lui l'ha detto ha il coraggio di dirlo e se ne prende le responsabilità poi magari è la società che gli ha detto che comunque deve dire che loro vogliono vincere lo Scudetto poi se non lo vince lo Scudetto che diciamo lo diciamo che ha fallito lo diciamo o no o solo se lo dice il Napoli che vuole vincere qua vuole vincere là e non vince che ha fallito quindi pure il Milan può fallire perché Pioli ha detto che vuole vincere lo Scudetto tutti loro la società i calciatori e lui vuole vincere lo Scudetto un altro Scudetto è legittimo è legittimo perché García dice sempre noi vogliamo stare nei quattro quarto posto addirittura quarto neanche nei quattro nei quattro posti e forse dobbiamo fare questo switch cioè è ovvio che noi dobbiamo giocare anche per vincere ce lo possiamo permettere perché abbiamo una squadra abbiamo una squadra fortissima e quindi ci sta ci sta ce lo possiamo fare e comunque che dire non ce l'ho fccicco vabbè capirai non è che chissà chi manca leao leao dobbiamo cercare di contenere leao mi raccomando se scappa due sole cose o fare fallo e al turno a chi si trova deve fare fallo ma fallo non fallo che poi lui continua a camminare quindi ti becchi il fallo e lui continua un fallo proprio di quelli che lo butti per terra o altrimenti a contenere a mettergene due come fanno con quara con quara mettono sempre due e li mettiamo pure sulleao due oppure quello lì di non farlo scendere sulla fascia perché se scende sulla fascia e va fino in fondo quello poi o passa la palla dietro a chi arriva e la butta dentro come è successo oppure va lui in diagonale verso la porta quindi in questo caso qua fare in modo che lui va verso va verso cioè viene bloccato magari va verso il centrocampo cioè verso l'area al vertice dell'area centrale cioè non so se mi avete capito comunque cioè nel senso a cambiargli anche il suo modo di fare ecco questo voglio dire perché lui questo fa prende la palla se ne va sulla fascia scende fino in fondo poi due sole cose o dribbla qualcuno e tira in porto oppure passa la palla dietro per farla tirare quindi fa due cose e noi gliene facciamo fare un'altra un'altra facciamogliene fare un'altra e poi che dire andiamo andiamo a sentire il nostro allenatore il nostro mister cosa ci dice oggi e forza Napoli sempre perché qua ragazzi dobbiamo vincere mi raccomando il nostro flusso telepatico deve essere noi dobbiamo lavorare di telecinesi o telecinesi comunque dobbiamo lavorare di empatia dobbiamo trasmettere flussi positivi a tutta la squadra nostra affinché possa vincere deve vincere forza Napoli e continuate a seguirmi mettete un like commentato condividete e iscrivetevi al canale ciao grazie a tutti